Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, di nuovo, tanto per cambiare, ben ritrovati qui nel solito, usuale, disordine della mia libreria. Allora, è passato l'8 settembre, ci ho fatto un video usando, come dire, alcune definizioni, alcune cose, passatemi dall'amico Paolo Alpini e mi sento in dovere di fare alcune piccole aggiunte. Allora, l'8 settembre, al di là del giudizio morale, tradimento, non tradimento, l'ho già spiegato prima, l'ho già spiegato prima. Tradimento, vabbè, se ne può parlare, se ne può discutere, ma siamo oggettivamente entrati nel 1940 in una guerra che non dovevamo neanche vedere col binocolo e ne siamo usciti con le ossa rotte, l'economia distrutta, il Paese devastato e invaso e soprattutto un alleato invadente, prepotente, che ci considerava peggio della merda di cane sotto le scarpe. E non sono certo io a dirlo, sono i fatti che parlano chiaro. Allora, l'8 settembre, se c'è una cosa che colpisce nell'8 settembre non devono essere tanto le diatribe tradimento o non tradimento, quanto lo sfacelo morale, materiale e assoluto diciamolo così, dello Stato, della nazione italiana nel settembre 1943. Un Paese impoverito dalla guerra, un Paese distrutto dalla guerra, un Paese che aveva perso centinaia di migliaia di soldati in avventure sconsiderate e disastrose, dall'Etiopia alla Russia, dalla Libia alla Sicilia. Insomma, pretendere di continuare la lotta in quelle condizioni era, a dir poco, follia, perché sarebbe costata la distruzione totale dell'Italia come Paese e come nazione. Non stiamo a girarci intorno. Il 25 luglio il fascismo si fece liquidare senza colpo ferire, ricordiamocelo, 25 luglio 1943. Il fascismo, Mussolini, dopo vent'anni di assoluto potere in Italia, si fa liquidare senza emettere una singola scoreggia udibile di resistenza o di dissenso dal crollo di Mussolini. Non una voce si levò a difesa di Mussolini. Tutti zitti e muti. Perché? Perché anche la stessa classe dirigente fascista si era accorta da tempo e sapeva da tempo che la guerra era persa e persa molto male. E l'8 settembre arrivò, nella maniera in cui sappiamo, a darci il colpo di grazia. Paese diviso, la Repubblica Sociale Italiana dall'altra, il Regno d'Italia a sud, gli alleati, i tedeschi. La storia la conoscete molto 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 bene e non ve la sto a ripetere. In quanto a certe considerazioni che mi sono state fatte mi sento in dovere di rispondere ad alcune cose. Uno, tu leggi libri di testo. Questi sono tutti libri di testo, libri e riviste, come dire, scritte. Libri, testi. Sono tutti testi questi. Leggo per forza. La storia l'hanno scritta i vincitori. Ancora questa bagianata enorme. Insomma, io ve lo ripeto, qua nella mia libreria c'è posto per tutti. per i vincitori e per i vinti. E in proporzione, i libri che possiedo sono in maggior parte oibo dei vinti. Eh già, perché qua ci sono i libri di gente come Carel, come Rudel, come Graziani. Sepolta qua dietro c'è un'edizione, c'è un volumetto, c'è un'edizione di Ho difeso la patria di Graziani. Purtroppo lo devo recuperare perché non lo riesco a trovare. Ne volevo fare la recensione ma non riesco a trovarlo. Allora, io dico semplicemente una cosa. Se la storia è scritta dai vincitori, perché i vincitori hanno permesso agli sconfitti di scrivere le loro cose. Ripeto, Rudel ha scritto la sua discutibilissima autobiografia e nessuno ha detto niente. Carel ha scritto i suoi discussi e discutibilissimi libri senza che nessuno fiatasse e che sono stati grandi successi editoriale. Le memorie di Graziani sono stato uno straordinario best seller negli anni cinquanta e nessuno gli ha impedito di scriverlo. La storia l'hanno scritta i vincitori. È una frasetta ideata, secondo me, da gente che non ha mai letto neanche quello che i vincitori scrivono, ma neanche quello che hanno scritto i loro beniamini sconfitti, facendoci oggettivamente una gran brutta figura che vi devo dire. Gran brutta figura che ha fatto anche il tizio che ha commentato nell'ultimo video secondo cui Mussolini era circondato da ladri e traditori. Io quando gli ho detto ma scusate, quegli uomini che circondavano Mussolini ce li aveva messi tutti Mussolini? La risposta è stata. Tu hai letto libri di testo. Mussolini era circondato da traditori. E chi gliel'ha detto? La fata turchina? Visto che sui libri si parla del fatto che Mussolini è stato capo assoluto totale e incontrastato del fascismo per quasi vent'anni? Gestendo in prima persona i ministeri militari e che i militari di carriera dovevano le loro carriere e le loro poltrone proprio alla benemerenza del Duce. Se questa teoria dei traditori attorno al Duce è vera, cari signori, vuol dire che il Duce semplicemente non era in grado di scegliersi i collaboratori. E? E? Ci ragionate su un attimo? Ci volete un attimo pensare o vogliamo continuare a starnazzare di tradimento? Onore? Fedeltà? Ci hanno tradito? Se volete credere alle scuse fate come vi pare. Ma i fatti raccontati dai libri, da tanti libri, da questi che ho in mano, da tanti che sono qua dietro, che dimostrano come Mussolini fosse il deus ex machina totale e assoluto del regime senza il quale non si faceva né carriera né si avevano avanzamenti di grado militari. Ci volete pensare a questa cosa? Prima di dire la storia scritta dai vincitori e Mussolini è stato tradito dai traditori che lo circondavano? Vuol dire semplicemente che Mussolini aveva un pessimo talento per scegliersi l'uomo che aveva intorno. Valle, Pricolo, Corso Fuget, De Vecchi di Ovalcismon, Balbo, Grandi, Graziani, Federzoni, Bottai, Muti, 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 Dio, mio, dovrò fare anche un video su Muti. C'è tutta gente che doveva tutte le loro carriere, tutte le loro benemerenze, tutta la loro vita a un uomo solo, a Mussolini. Ed erano tutti traditori? Soddu, Pariani, Visconti Prasca, Cavallero, Badoglio, Graziani, tutti traditori o peggio ancora tutti inetti, incapaci e servili perché non dovevano dare ombra al duce e al suo presunto genio napoleonico. La battuta che gira spesso su Mussolini è quella che lo vuole come un incompetente circondato da incapaci e basta girare un pochettino le liste dei nomi che circolavano nello Stato Maggiore. I più noti lo sapete tutti, Badoglio e Graziani, Caricca e Croc, Gianni e Pinotto, Mio e Mao, il viscido e lurido, che cavolo ti devo dire, Badoglio e Graziani, Badoglio e Graziani, Soddu, Visconti Prasca, Gariboldi, tutta gente che ha fatto carriera usando la lingua per umettare i giusti dei retani. Mentre l'unico soldato vero e valido che avevamo a disposizione, il generale Giovanni Messe, venne trattato come una specie di paria dai suoi pari grado. Perché? Perché non lo sopportavano, perché era troppo più bravo, perché era troppo più onesto, perché treneva troppo al benessere delle truppe. Pensateci, quando parlate di tradimento, pensateci a quando parlate di infidi esseri che circondavano Mussolini. Non è tanto la colpa delle presunte spie che sarebbero state presenti nelle alte gerarchie del fascismo. No. La colpa è di Mussolini che quegli uomini lì ce li mise e non ebbero alcun bisogno di fare le spie per gli inglesi, perché si comportarono in maniera assolutamente disastrosa. Vedere Soddu e Visconti Prasca in Grecia, che cosa riuscirono a combinare. Vedere Cavallero con le sue ruberie, vedere Badoglio, tutto un programma. Vedere Graziani, tutto un altro programma ancora. Vedere Iachino, vedere Cavagnari, vedere Pricolo, vedere Valle, vedere Corso Fugè. Gente che veramente non aveva le qualifiche minime per fare il bidello messa a capo delle forze armate, anzi, messa a fare il burattino delle forze armate, perché tanto il capo, solo, assoluto, indiscusso, era sempre lui. Mussolini. Ci sono i libri, ci sono le prove, ci sono i documenti, tonnellate di documenti. La segreteria personale e particolare di Mussolini è liberamente consultabile. È più facilmente consultabile negli archivi di Kew Gardens a Londra, dove sono state portate le copie fotostatiche fatte anche da Christopher Lee, l'attore, che all'epoca era membro del SAS e grazie alla sua conoscenza dell'italiano, fu addetto proprio al recupero degli archivi delle segreterie personale e particolare di Mussolini. E le carte parlano chiaro. Mussolini sapeva, sapeva perfettamente tutto, ma non fu mai in grado di agire, non fu mai in grado di agire, non fu mai in grado di essere l'uomo che voleva essere, perché non lo fu mai. Mussolini è il re del vorrei ma non posso, autoritario, forte, guerriero, virile, in realtà timido, indeciso, ingenuo, incapace di scegliersi collaboratori decenti perché aveva paura che gli facessero ombra. Tanto è inutile. Nel regime fascista, tra i gerarchi fascisti, sicuramente i migliori erano tre, quattro, diciamo ciano, il che è tutto dire, balbo, bottai, grandi, che erano quelli che conoscevano un po' come andava il mondo fuori d'Italia, che ne avevano un'idea e che sapevano bene la catastrofe a cui il Duce stava spingendo l'Italia nell'entrare in guerra e che cercavano nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo di salvare il salvabile del fascismo, accollando la responsabilità e quindi le colpe della condotta militare dell'esercito del paese a re, togliendo le mussolini. Cercavano di salvare il salvabile del loro regime, delle loro vite, delle loro poltroni, di quello che avevano vissuto per più di vent'anni. Non ci riuscirono perché il paese collassò, molti furono arrestati, tanti scapparono, Ciano stupidamente fuggì in Germania, Farinacci, Farinacci, ripeto, quello che Goebbels chiamava il maldestro imbecille, fuggito di corse in Germania, tanto per cambiare. Tanti, tanti gerarchi scappati alla ricerca della sicurezza, perché avevano paura di essere arrestati da Badoglio o di essere, come dire, giudicati da qualche tribunale del popolo che non vedeva l'ora di appenderli per i piedi. Insomma, l'8 settembre fu la catastrofe di un popolo intero. Poco da dire, poco da fare. con altri venti duri, durissimi mesi di fame, di guerra, di violenze, di torture, di prepotenze, di distruzione e di guerra civile. Sì, perché di guerra civile si trattava con i tedeschi a comandare a comandare la cosiddetta Repubblica di Salò con la frusta e il calcio del fucile e i fascisti docili a obbedire commettendo terribili crimini contro i nostri connazionali. Per l'onore d'Italia tipo Sant'Anna di Stazema tipo a Padule di Fucecchio tipo a Sant'Anna del Furlo tipo a Fonte Corniale di Montefelcino a Tavolicci di Verghereto a Fragheto morti, 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 morti innocenti per cosa? Perché eravamo entrati in guerra in una guerra che non dovevamo vedere nemmeno con il binocolo, ne siamo stati travolti, ne siamo usciti disfatti, ne siamo usciti peggio che sconfitti, ne siamo usciti umiliati e ci è stato bene perché non eravamo in grado di fare altro che pena dopo le catastrofi militari che avevamo subito e l'incapacità ormai evidente del regime di tenere in piedi la nazione che stava collassando su se stessa. ripeto il cambio di passo, il salto del fosso passando dai tedeschi agli alleati passando dalla guerra con i tedeschi alla pace con gli alleati era inevitabile. Lo Stato stava per essere distrutto ed è inutile che certa gente dice l'onore tradito. Onore tradito di che? Onore tradito di cosa? Onore tradito, ma per piacere onore tradito. Basta vedere, basta ragionare, basta leggersi qualche libro compresi i libracci di Paul Carell, di Rodolfo Graziani. Ho difeso la patria e qua dietro da qualche parte e lo devo trovare e lo recensirò. Le memorie di Hans Ulrich Rudel sono anche tra i miei libri. Le memorie di Saburo Sakai, le memorie di tanti combattenti italiani sconfitti e tedeschi sconfitti e hanno parlato anche loro e hanno parlato molto pure loro, forse hanno parlato anche troppo indorando certa pillola. voi, non lo so, tanti di voi non ci arrivano, non ci vogliono arrivare. Duce, 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 onore, patria, onore, onorismo. ma vi rendete conto di quello che dite? Vi ne rendete conto o no? Io credo di no. Perché non ragionate? Cioè, allora, state facendo veramente la figura degli juventini quando si parla di calciopoli o degli interisti quando si parla male di Massimo Moratti. vi manca la lucidità, vi basate sulle vostre convinzioni, vi basate sulla vostra fede, non avete dubbi, perché la fede è sempre totale, assoluta e granitica. Lo diceva Oscar Wilde, soltanto gli idioti non cambiano mai idea. E Wilde era oggettivamente un genio. e in questo canale ne abbiamo avute di dimostrazioni del suo genio. Che vi devo dire? Io ripeto, leggete che non vi fa male, continuate a leggere che non vi fa male, cercate di uscire dagli schemi. Cioè, io da interista, ve lo dico subito, io da interista detesto, detesto e considero la rovina autentica dell'Inter, lo sapete un po' chi? Massimo Moratti. Ma ti ha fatto vincere gli scudetti, ti ha fatto vincere la Champions? Sì, sì, ma a che prezzo? Distruggendo la squadra. Il colpevole della decadenza dell'Inter è Massimo Moratti. Non ci sono sé e non ci sono mai. Così come la decadenza del Milan è dovuta alle disastrose gestioni berlusconi degli ultimi anni. E non me lo invento certo io, parlano i conti. La gazzetta dello sport bene o male la leggerete. Di bilanci spesso ne parla. Chiedetevi, cari interisti e cari milanisti, perché abbiamo consegnato praticamente il calcio italiano nelle mani della vecchia signora? Che ce l'avremo fra i coglioni ancora per tanti anni? Ma che ve devo dire? Perché è la fede, la fede, la fede, la fede, ma un conto è la fede calcistica. Ma se la fede politica annulla la capacità di ragionare, non ci fate una gran bella figura. io vi dico solo questo. Io i dittatori non li sopporto, non li reggo, li detesto, li disprezzo profondamente. Non mi piacciono. Da Mussolini a Kim Il Sung, da Hitler a Saddam Hussein, da Pinochet e a Stresner. Non mi piacciono i dittatori, li odio, li detesto, li disprezzo, perché sono un uomo libero, perché cerco di essere un uomo libero, perché la tirannia è soltanto la prepotenza, la violenza e la stupidità dell'uomo contro l'uomo. E questa è una cosa che a me personalmente non piace. Sono un idealista? Sì. Ma da qui a venirmi a dire del simpatizzante di Stalin, del volere Stalin in Italia, del volere l'Italia sotto la dittatura comunista, se pensate questo di me vuol dire che non avete capito un emerito cazzo. Ma proprio niente avete capito di me. Siete proprio lontano chilometri dal capirmi o anche dal provarci. Che vi devo dire? Ripeto, io lo dico sempre, qualche libro me lo sono letto da autodidatta, cercando di capirli, cercando di ragionarci sopra. Voi ragionate per slogan, ragionate per sentito dire, ragionate per onore, odore, a noi, ragionate per leggende, ragionate per quello che volete seguendo, ragionate seguendo quello che volete sentirvi dire e quello che vi è scomodo diventa immediatamente marchiato come comunismo, sfascismo, disfattismo perché non siete capaci di ragionare sui fatti. Chiaro? Vi sfido a trovare nella timeline del mio canale, vi sfido a trovare parole lusinghiere sulla dittatura di Stalin, vi sfido a trovare parole lusinghiere sulla dittatura di Stalin, vi sfido. Sono mai stato tenero con Stalin? Ho mai parlato bene della faina georgiana? A me non sembra di no. Ho esposto alcune cose che ha fatto, ho esposto le differenze tra Stalin e i suoi colleghi dittatori occidentali. Ma non l'ho mai esaltato Stalin perché c'è molto poco da esaltare. Tutto qui. Quindi, cari signori, io ve l'ho detto, le considerazioni sull'8 settembre sono tante, sono variate, sono svarie e variate, complicate o semplici. Basta comunque sia rendersi conto di una cosa. Mettete da parte l'ideologia, mettete da parte i traditori, mettete da parte il disonore che lascia il tempo che trova. Focalizzatevi sui fatti, focalizzatevi sulla storia del momento, focalizzatevi su cosa viveva l'Italia in quel momento e vi accorgerete che c'era poco altro da fare dell'abbandonare l'alleanza con la Germania per cercare di salvare il salvabile. per cercare di evitare lutti, per cercare di evitare distruzioni a un paese che la guerra l'aveva persa e soprattutto l'aveva persa in maniera disastrosa e incontentabile, e incontestabile, scusate. Dite un po' quello che vi pare, fate un po' quello che vi pare, ma la verità dei fatti è questa. Va bene. Signori, questa mia meditazione, questo mio discorso a ruota libera è durato sicuramente un po' troppo, ma spero di essere stato chiaro, sono stato il più possibile calmo nei toni, sono stato il più possibile preciso, sono stato il più possibile per quello che mi è riuscito esauriente nello spiegarvi la situazione dell'8 settembre. Io vi posso soltanto augurare buonanotte, arrivederci al mio prossimo video e come sempre signori leggete che leggere non vi fa male, non dico di arrivare ai miei livelli che sono come dire un po' troppo anche per me ormai, ma leggete perché leggere fa male solo alla vostra ignoranza, accantonate i pregiudizi e soprattutto leggete per piacere, ne troverete un grande giovamento. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio, vi auguro buonasera e arrivederci tanto per cambiare al mio video, al mio prossimo video.